buongiorno oggi facciamo il video a spesa e dopo la sigla vi faccio vedere cosa sono andata a comprare a khafoor via la sigla ecco mettiamo un po dietro oggi siamo andati a khafoor a fare poca spesa vabbè vola grandissima spesa la facciamo la faccio il primo però non so se riuscirò a metterlo buona sera però farò il primo giugno che poi a giugno è pure il compleanno di guerrino vi farò vedere pure quello lì allora acqua questa qua che tutta l'acqua naturale è una che mi piacciono però questa macca si che viene pure da l'unghia mi sa l'ho letto una volta poi abbiamo fratto le cosce di pollo 5 euro 85 una due tre quattro cosce di pollo poi ho comprato un'altra busta di latte sperando che mi basta fino a quando prendo la pensione vediamo poi ho comprato mio per rachele perché lei era tollerante al latte e questa cosa qui è fatta e non aveva mangiato piedelo che quando arrivi con l'uomo di mangiare e adesso mio presa come l'ho comprata un'insalata cosetto di insalata comprato per sabato il lievito di birra questo scade il 29 maggio tanto sabato e due buste che magari si è sbagliata però ci doveva stare la pizza che vabbè crediamo avviene bene uguale barilla ma ci doveva stare la pizza davanti non ho capito si dà la ricorsa e ho speso 14 euro e 95 vediamo se si vede perché è bianco abbassiamo un po se si vede meglio la cifra di soldi ok alziamo che se non ci vediamo e come piccolo video i formaggini ho pagato 1 euro 85 la busta 12 i fusi di polo 5 euro 85 acqua 21 centesimi i lieviti 45 centesimi i lieviti 45 centesimi e l'insalata da euro per di 9 a soia di soia un euro 2 euro 80 la farina un euro 19 euro 19 tutto 14 euro 9 punti non ho capito che ci faranno due punti comunque adesso possiamo lasciarci perché fino a questo video ciao al prossimo video mega bacio ciao ciao ciao